Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella settima puntata della serie alpina Oggi siamo qui con... Mauretzeppa Ciao a tutti Ciao a tutti Allora ragazzi, c'è in grande richiesta latte E... Una singolizzazione Lo pagano circa 6.000 che effettivamente non è... Tantissimo 6.528 E ne abbiamo 6.000 litri 6x6, 12, 120.000 euro No, 36 Infatti dicevo, cosa sto dicendo? 36.000 euro? Ce li facciamo Però ci serve una botta perché noi non abbiamo niente, è vero? Per caricarle Vero? Ah, non so io Eh, mi sono persa Non... Cosa c'è Sam? Non c'è stata la verifica a martedì Ah, anche io c'ho la verifica a martedì Pensa dai che tra un mese agli esami E zitto tu Almeno sono rimediato la foto del comito E allora, che vuoi di più? Eh, però non è quello Non è quello Lo spegnete su stes-ste-ste-ste-ste-ste luci Questa va... Fa-fa-ra-pa Fa-pa-ra-ra-ra... No, no, no Allora... Ehm... dovrai facciati a piazza politica da qui se proprio un piumo l'idea con 1159 via piano piantala ammira si no ok va bene se sono niente ciao e non è io sotto port camise Ancora una volta, devo venire? Sì No Mi sono ingollato una pianta Se li toglie sotto, non so manco come si ho fatto Devo venire o no? Ma che te sta, ci sta lì più oppi Mi sta scappotando 17 volte Arrivo Ecco, mi sono ingollato una pianta A posto, avanti Ma tu vedi che mi avete da sporto, tipo? Ancora, avanti Ancora un po' qua Samuele Guarda dove sono finito Era sulla strada grigia Quella di fianco lo spinnery Sono finito, ecco Non sono mai venuto Forse è scappotando Fiasa lento sto sterzo In teoria ce l'ho fatta Ecco, monta Dai mi è scappato Ma tu sei io sotto? E non chiedermi come ci sono arrivato qua Se cominciamo a farlo con le legne Infatti andiamo bisogno di un bella zona, vero? Sì Sì, ma falle le legne tu in sta zona, Daniele Sei masochista, una volta che sali di lì non c'è Non c'è altro modo per montare? Prova ad andare un po' avanti e indietro, guardrail Eh, c'è il guardrail Eh, sulla sinistra non c'è Davanti è tutto, guardrail Eh sì Vabbè, io vado da qua Passa oggi, vengo domani Eh, la notte che sono 15 Bloccavi, tagliate le barriga E che si è scappato un'altra volta Si mi è scappato Chiamo Simo ma lo faccio biasimento Ah no La fisica di farmi Ecco, ecco Gio Speedblier Eeeh Eeeh Ecco, io sono arrivato qua Mi sono preso il guardrail tipo così No? Stavo guardando tipo lo storo Ho preso così Mi sono ribaltato giù Sono andato a finire io sotto Sì, so, a piedi è venuto Chiamo, dai Torno indietro No, no, vieni, vieni Che compriamo lo schioppoli in casa No, no, no Non lo so Sam, cosa dici? Compriamo anche la Ma no, stai lì, stai lì Compriamo anche? La roba per fare la legna Ma poi mi è passata di via Qui ci sta tutte le fratte Ecco, non si recapezza cosa Ma Lo riporto indietro? Sì, sì Ma avanti Allora io devo andare qua Compro Compro la cosa La porto in farm Riempo e la riporto qua Ma Ma hai messo i piappi in mezzo alla strada? Fifo, fifo Paraculi Dopo sono anch'io che ci scapportime No L'hai messo in mezzo proprio No Non c'è ciò che fa Non c'è ciò che fa Non c'è ciò che fa Ti devi comprare, non c'è La botte per la Apte Ah, sì Ma a parte qua la storia C'è lo storia Siamo talmente poveri Che non siamo mai visti in vita nostra Ah, no, col gianni l'hai visto? Io qualche volta l'ho visto Col gianni e basta È vero Meglio che niente, oh Il cipato quanto lo paga, Sam? Porca droga Non lo so Movedo, eh Allora l'ho cipato Se faccio scorrere senza che me calco sotto Allora qua Dove sta? Che è sti zippi, ecco Ero cipato? Routenback Quanto lo paga? Tanto in backing Che sta dopo il latte Che ti sa, cioè? Ecco, dice, 209 Ci sta dopo il latte, 209 Buonazzo perso Non lo paga un tubo Ma se vuoi stare portato in grande richiesta? Guarda la lama Cioè, ma tu sei messo in difficile sta serie? No, è semplice È facile Ma come è facile Che costa 2000 euro a lana? Che cazzo dici è facile? Facile! Difficoltà economica Facile! Facile! È impossibile La lana non costava 2000 euro Eppure lo lato ci stava 2000 euro Dipende da mappa a mappa Dove le fa spawnare quelle robe? Dai, ho messo un crassalato qua Grande acquisto Ah, a parte il noleggiato, vero? No, compro Chiediamo il debito Cominciamo a chiedere il debito Eh no, è il noleggio No, no, come vuoi fare? Samu, tu potresti andare a vedere Se nel video di oggi cosa hanno risposto al sondaggio Eh, ma io no Vado io E non c'è la password di youtube Ma io A parte no Basta che vai là e voti una cosa a caso Sì, ok Ho capito Vota quello che preferiresti tu, ovviamente Augmentiamo i soldi 71% sì 28% no Ok, mi sa che vediamo i soldi Giuseppe Per il video Il resto non tu sai che ha votato Salutiamo Giuseppe Io Daniele, Den e io Samu, saluto il po' Giuseppe Io Daniele, Den e io Io Daniele, Den, Den, Den Hai ascoltato? No, io non ho votato No, 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 io non ho votato E porca di quella miseria Giuseppe se stai ascoltando questa parte del video Ti iscrivi nel video Sisone Sotto nei commenti Eh, fagli vedere come si scrive Per essere chiari Ah, giusto Sisone Sisone Che cuglioni Gli appena Dai, c'è tessi soldi Mi compro mezzo Che mi gusta a me, no? Abbuto Vabbè, sta puntata Finemola, dai Vendemola l'atto Poi dalla prossima Ci temo Arfacemola Arca miseria Arfacemola 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 E' nota di Farme Farme, dovai? C'è tali cami? Allora, che cami ci sta? Ma a parte che interio Posso cittarli anche adesso Fammi un po' vedere Basta fare una cosa del genere Sì Poi io vado qua Trasferisci Promuovi direttore Ecco come faccio Promuovi Sì Rimuovi No! Trasferisci Voglio trasferire tutti gli soldi me Trasferisci Poi chiudo sta fattoria Faccio Cancella fattoria Me vado del qua Sì Grazie Grazie Ed è per tutti questi soldi Poi vado qua Crea Vado qua Ci devo entrare Sì Vado qua Promuovi Sì Vado qua Trasferisci Trasferiamo tutti i soldi Trasferisci Vado qua Metto di qua Sì Qua Cancella Sì Qua Crea Così Così Cosa Sono figurato un trattore bellissimo Però andrò posso dire Al stesso che comprerai tu sicuramente Ok quanti soldi abbiamo 3 milioni 3 milioni 734 mila 737 Vendiamo tutto? Posso comprare un mezzo? Aspetta Vendiamo tutto? No Tranne le vacche Vendi l'assimilatrice Ma come l'assimilatrice? Vendiamo tutti i trattori No? Facciamo tutto Ah Sì Allora il Fender lo vendiamo Vendiamo il Fiat I Johnny La Trebbia Il carro potremmo anche tenerlo O no? Ma sì La lama Questo è il ballo del qua 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 E poi fischia Daniela si visto il video Ma come no? Quale? Quale destra? Qua sono andato qui Lo devo fare Qua 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 Quello che penso io Sì Ah ho capito Sì ho capito Sì Me lo hanno girato anche su un'altra parte Che si è toccato Allora Daniele Daniele Il trattore compriamo Posso comprare il trattore io? Lo sai come lo penso io Io per non saper leggere e scrivere mi compro il mio Poi Sam fa quello che vuole Io me ne posso comprare uno mio? Sì Cioè Quanti cavalli? Quanti ne vuoi? Ok Ah Me la regolate eh Io ce l'ho Io io Secondo me non si regola sto qua Mi regolo benissimo non ti preoccupare Che vuoi di Rd? Ah no 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 Ah io lo metto Io ti dico solo che per il mio trattore devo comprare una Zavar da 1800 kg Daniele cosa ti vorresti comprare? Eh no Dan stai scherzando Che l'è? L'8400R Eh bene che ha fatto Samuele si è pillato l'U7 L'U724 con la chiusura in gutto di fianco E come si fa a toglierla? Dimmi E' mod questo Hai preso Eh non so che è mod Eh non si può togli Però è bello Beh me ne frega me C'ha una visuale sul tetto Eh oh ingegnere Eh? Gli faccio lì con la pasta Ma ti posso una visuale sul tetto perché? Che te saccio io perché c'ha una visuale sul tetto Ma io sto impennato Ma che te saccio io? Che te saccio io Samuele? Ho spigliato tu ho spigliato La standard ampliamento Primo compliamento Questa è grossa? Io sono indeciso tra il case piccolino e il case grosso Il niente ce l'è piccolo quindi Vuoi far ricordare niente sa? Oh è arrivato a te noci Oggi va Eh? Io dico Eravamo su Bornand Io dico Flauto voglio suonare Aspetta Sento buono te Stai una parte che dopo Vabbè Daniele abbiamo capito tutto Non ti preoccupare Io dico Ma si può sapere quanti siete contro di me? Perché c'era Simo e Dan che mi sparavano no? E Dan va Due Io e Simo e poi va Tre decicanti anche le mie parole C'è quello di Fabio C'è lato per lui di questo trattore sembra un albuo natale Si ma non hai finito di dire Daniele Non ho ancora capito L'hai capito Samuel? Tu è rimasto tre Poi è laggato e non si è sentito più niente Tu anno diferencia e basta Ma qua eccoci c'è la sinistra la gps si quindi che trattore prendo io quello che puoi massimo 180 cavalli allora mi prendo ma sto scherzando io ce n'hai un 400 io ce n'hai un 300 mila io ce n'hai un 724 240 724 cadroia che botta che so pigliato so ciappato i lavioni e mi sto fanno giocando metri a due ruote proprio in equilibrio porca cadroia ste macchine io prendo questo prendo un maximum 145 vabbè posso? tu non sai dove vai con l'8400 ma posso comprare? ah per me che me ne frega me con l'8400 euro ce n'hai una paglia come è scappolato però ce n'hai una paglia oh perchè non c'è il mio trattore? chi me ne frega? io ma si ma non c'è? no non l'hai comprato Daniele non l'hai comprato ma ho fatto si ma no Daniele Daniele piantala Daniele ma come i tuoi cittadini sono a casa? si no no ci sono ma mi sono coricato in camera non coricato baricato ah baricato coricato non lo so peggio che sta con il ginocchio quando mi ha fatto bocca Daniele è bello che Daniele un secondo prima lo sente e fa ok stanno arrivando bocca Daniele e io e te che ci ammazziamo da ridere no ma porca tro ma io l'ho comprato ma l'avevo si pistato? ma faccio troppo no 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 eh solo è riato amministrazione è riato no Dan abbiate gli scherzi becca fatti io l'ho comprato due volte no 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 e dove sta? ci sta amministrazione Daniele non stavi admin non eri amministrazione per davvero ma anche sto admin no però te sono visto direttore agricola a te a Samu no a Daniele no grazie grazie che parla considerazione che hai di me Daniele zitto zitto fatica guarda fare il mucchio di merda fare il mucchio di merda eh 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 ma sto stabile ecola dove vedi? sì ma non ci abbiamo abbastanza posto per tutta sta roba sto stabile ecola lo viene oh dalle vacche quale 8400 ma le vacche sta in là perché? ma che te saggio? piglio una zavorrina scusa ma ah ma c'è un qua sopra ma dov'è che stanno le zavorre? le zavorre su zavorre ci sta la categoria ci sta eh mica ci sta io non la vedo ecco c'è pasta ecco sotto ma mi pare di vederlo ma io non le vedo le zavorre o sono mongopletico o le zavorre non ci stanno pesi è l'ultimo in basso a destra ma non ci sta ma non è che la stai guardando sui trattori sui veicoli in alto la stava guardando sui veicoli ho una domanda ma è con eh niente palito cos'è? come funziona sto store? è diverso dagli altri qua se un capannone se la fa metti giudanna qua è un po' leggermente ripeneggiando cala e fermete eh non credo che peso ci metto beh se le metti uno questo in modo che famo con le iemete qua cioè con le con le porte del capannario volte verso la montagna non credo beh proviamo poi eh eh perché sarà la metti ma se no è un culo può essere pure ma andiamo a vendere sto cavolo di latte a minare mi sono andato cento del mila euro papà eeeh sono andato la ierba ma questa è un'altra storia mi sono andato la ierba l'ho staccato lo fregno l'ho staccato lo coso mentre l'ho staccato eh eh si eh no ma voglio vedere dove vai con quella ma che stai facendo ci va con iotena Daniel Samu preparati a scrastare Dan perché vuole iu no iu io Daniele io con la o non ne posso più delle sentite iu becca da la curva iu iu e ruppate le gorni e vuoi che non salto la strada ruppate le gorni te l'eroito che ti incrastavi eh si volevo pensavo che tu andavi avanti io volevo chiapparti o incrastarti ma poi ti sei fermato allora mi sono incrastato io eh volevi quello lì quello lì ragazzi ti spingo ti spingo te chiappo te chiappo te pisto è passato un Volvo pistalo si potrebbe considerare questo di un S710 S710 S730 no 710 no ho cugnato il camion oppure raccogli grano che sarebbe molto utile cioè ma guarda guarda quanti raccogli canambri ha messo guardali guarda Daniele non sei d'aiuto quanti non mi sti perché 5-6 quanti non mi sti dove stai di raccogli manco c'è stata ecodologia per raccogli è inutili dove stai di raccogli sotto i carrelli mamma mia se non mi sti toro ma non li comprerà noi nessuno Daniele si è engolato che cosa a me gustaria con la botte guarda sta qua la santa no da qua devi dagli Daniele da qua da qua no si incrasta lui no se puoi pure da qua c'è ragione è una scocciata aspetta che devo biestimare qua è stretta dov'è che stai io mi compro la botte propicio io vi ringrazio tantissimo per la visione da Dan buon esame si sono è tutto ciao a tutti ciao a tutti